no non è nemmorroidi viva il calcio Jennifer Lopez ma Jennifer Lopez chi? ma le 2009 ma le 2002 che ne sanno? che ne sanno? che ne sanno? fatica bentornati e ben ritrovati io vi ringrazio immensamente per il supporto che state dando ai miei contenuti di calciomercato su questo canale YouTube io vi ringrazio immensamente abbiamo superato ampiamente i 4.000 mi piace come promesso un nuovo video ma vi rinnovo ragazzi la sfida non appena su questo video arriveranno 4.000 mi piace subito immediatamente altro episodio rischiamo nuovamente di fare il terzo episodio di giornata e mi farebbe veramente tanto tanto piacere ragazzi farlo perché ho tantissime cose da dirvi vi dirò tante bombe di calciomercato ma tante non faccio un tempo quindi se le volete sapere se volete restare al passo coi tempi del calciomercato odierno 4.000 mi piace su questo video subito un altro episodio iscrivetevi soprattutto anche attivate la campanella per restare sempre aggiornati per ricevere la notifica sul cellulare quando pubblico se pubblica le due di notte perché abbiamo raggiunto i 4.000 mi piace ve li perdete sti video se siete iscritti e non avete attivato la campanella fatelo non fate come il 45% di voi supportatemi altri due canali YouTube a disposizione per voi un altro dove parlo di calcio e uno non di calcio trovate tutto in descrizione o compariranno qui i canali durante il video io dopo due ore su questo video veramente voglio 3.000 mi piace vediamo se ci arriviamo voglio proprio vedere dove possiamo spingersi spingerci con il supporto tanto mi piace non costa niente allora sabatini via salernitana e via dicendo dovrebbe arrivare bigon che è andato nel frattempo via dal bologna che è stato a sua volta verrà sostituito a sua volta da sartori sartori che a sua volta verrà sostituito che al mercato mio padre comprò quindi fate attenzione a una notizia e va bene così iniziano visto che abbiamo cominciato con la salernitana a muoversi le prime situazioni di calcio mercato in ottica futura per la prossima serie A la salernitana vuole fare un campionato tranquillo hanno dimostrato che se giocano dalla prima alla trentottesima si possono salvare con molte giornate d'anticipo e stanno pensando fortemente all'ovato l'ovato in prestito al Cagliari torna all'Atalanta perché ovviamente era in prestito come stavo dicendo e vorrebbero intavolare una trattativa a titolo definitivo ma sarebbero comunque disposti anche semplicemente ad un prestito far crescere l'ovato per aiutarli alla causa per rendersi utili alla causa salvezza detto questo il Sassuolo sta puntando fortemente un calciatore che vedrai benissimo in quella realtà calciatore pazzesco lo ha dimostrato lo sta dimostrando sto parlando di cancellieri quanto mi piacerebbe un calciatore del genere alla Roma ragazzi c'ha dei margini di miglioramento veramente assurdi ma magari torna a Roma torna ma era mi sta venendo in dubbio ora devo circondiretta tanto ci metto 10 secondi ma era primavera Roma cancellieri dubbio vediamo dubbio amletico transfer market 20 anni ovviamente mi ricordavo bene andiamo avanti non è più il nostro infatti 2 milioni e mezzo è tutto del Verona benissimo allora cari tifosi dell'Inter è tutto vero Bellanova è tutto vero ma fermatevi un attimo l'Inter ha offerto 7 milioni di euro per arrivare a Bellanova il Cagliari lo ha riscattato dai nonni e dai zie ha offerto 7 milioni ma chiedono 15 milioni di euro quindi la distanza da rimare è tanta e c'è anche soprattutto la Fiorentina in tanti non lo sanno ma la Fiorentina ha fatto la stessa offerta lui ovviamente tra le due preferirebbe l'Inter se non sbaglio è proprio tifoso dell'Inter tra l'altro però insomma l'Inter deve sforzarsi fare quel qualcosa in più a livello economico per arrivare sul calciatore che secondo me ha dei margini di miglioramento veramente veramente pazzeschi allora l'avete sentito che se parlava di Scamacca all'Inter al Milan qualcuno parlava anche di Juventus poi è arrivato Vlaovic dice no come vice Vlaovic ha sprecato costa troppo no si è parlato di tante realtà in Serie A sembra che il Paris Saint Germain sia interessatissimo a Scamacca dice dove lo mette? sono interessati a Scamacca e il Sassuolo qualora vendesse Scamacca ha già trovato il sostituto Augustin Alvarez del Pegnarol già ne abbiamo parlato forte interesse anche di altre squadre di Serie A o vedo in Serie A questo ragazzo secondo me da qualche parte in Italia ci casca e ci arriva quindi come vi dico sempre io stiamo se attenti facciamo particolare attenzione italiano resta adeguamento del contratto previsto per il lavoro svolto in questa stagione ha fatto veramente tanto tanto bene si merita un adeguamento ed un rinnovo con un prolungamento di contratto la Fiorentina non se lo vuole lasciare scappare e fanno benissimo ragazzi ve l'ho detto qualche giorno fa se non gli adeguano il contratto e non lo blindano questo in qualsiasi altra realtà italiana anche più importante attualmente da Fiorentina far botto quindi ci hanno tutto l'interesse parliamo di Monza ragazzi ne ha parlato addirittura di Marzio quindi qualcosa sotto c'è che il Monza vuole fare una squadra altamente competitiva non solo per la salvezza ma anche per qualcosa in più ragazzi è sotto gli occhi di tutti vogliono Pina Monti ha capito il Condor Pina Monti e Romagnoli Romagnoli scadenza di contratto col Milan non trova l'accordo con la Lazio Economico lo dito Braccino 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 Berlusconi e Galliani progetto messo al centro del progetto magari la fascia da capitano ci sta pensando perché poi regà è un meccanismo dico una cazzata arriva Pina Monti arriva Romagnoli arriva arrivano almeno altri 3-4 rinforzi importanti nella squadra dice a salvasse se salvammo ma perché non sposiamo sto progetto non so se me lo so spiegato abbastanza semplice non è difficile arrivarci ragazzi e c'è pur sempre Berlusconi e Galliani di mezzo che sono loro che fanno secondo me la differenza mamma quante cenotative Eriksen vi ho parlato l'altro giorno dell'interesse del Manchester United è assolutamente vero ma il Tottenham dice ma come Conte se te lo vi ricordate all'Intern si trovava poi ha cominciato piano piano ad inserirsi poi è successo quello che è successo lo vuole al Tottenham ragazzi motivo per cui attenti attenti perché anche allo United lo vedrei bene onestamente però sta tornando ad altissimi livelli quindi ce n'ha ancora Eriksen da dare Pirlo riparte dal Karam Gürük dalla Turchia e so che in realtà negli ultimi mesi da quando non è più allenatore della Juventus è stato accostato a tantissime realtà e tante volte si è detto è mo va a Spezia è mo va a quelli è mo va a quell'altra è mo so piglia quella è mo so piglia quell'altra e poi alla fine non se ne è fatto niente però da quel che so io Pirlo vuole ripartire dall'allenatore se so calmate le acque adesso è arrivato il momento di lavorare seriamente e di lottare per degli obiettivi e potrebbe ripartire non ancora ufficiale nel momento in cui ve lo dico però insomma c'è una trattativa in atto pesante quindi Pirlo Karam Gürük si potrebbe assolutamente fare Zlatan Ibrahimović è arrivato il momento di parlare con la dirigenza del Milan per il rinnovo di contratto sembra che lui abbia deciso nonostante l'infortunio quando rientrerà da preciso non si sa abbia deciso di continuare come calciatore il Milan ragazzi si sta a tutela ovviamente perché dice ne devo prendere uno in più praticamente Ibrahimović quando gli se può stendere il tappeto e farlo giocare nel palco scenico di San Siro o non solo anche in trasferta ovviamente non te poi gli iranno dietro però stanno lavorando su un contratto un po' simbolico da quello che ho capito io perlomeno nella parte fissa e poi praticamente il grosso di quello che andrebbe a percepire lo farà in una sorta di gettone di presenze dice più giochi più segni più ancora di mostri di essere Ibrahimović e più io te pago sono dispostissimo però non te posso dare uno stipendio di 5, 4, 3 ormai milioni che comunque sono tanti milioni di euro se poi a me stai sempre sconciato e fermo credo che sia un ragionamento che possa accontentare entrambe le parti sia lui che è una persona onesta sotto sto punto di vista sia il Milan perché c'è tutta l'esigenza ancora di un calciatore così forte poi questa vatica la prossima ma è pesante ce ne stanno due o tre pesantissime Belotti qualcuno ancora qualche tifoso del Torino giustamente ancora ci spera perché dice oh non se ne è ancora andato c'è il contratto al 30 giugno è arrivato questo gli scade il contratto se continua così resta ragazzi sta semplicemente aspettando una proposta da una squadra importante che sia Milano che sia Inter che sia Juve che sia Roma Napoli Lazio Atalanta sta cercando una di quelle top la Fiorentina una di quelle top la prima che si muove seriamente che dimostra di offrirgli diciamo un posto più sicuro da titolare è difficile in quelle grosse realtà però lui si sta muovendo sotto questo è quello che si sta dicendo non resterà altro sarebbe clamoroso ormai il contrario ossia una permanenza al Torino sarebbe proprio un qualcosa di assurdo allora vediamo un po' di Milano ne abbiamo parlato di Monza ne abbiamo parlato di Fiorentina di Salernitana di Sassuolo di Inter che ve posso dire ma ce ne stanno talmente davanti ragazzi ce n'è una sulla Juventus molto molto particolare e io direi che è arrivato il momento di parlarne perché ragazzi non so se lo sapete si sta discutendo di di una ha detto Di Marzio di una permanenza di Alvaro Morata vogliono trattenerlo a tutti i costi il problema è che l'Atletico chiede per il riscatto definitivo 35 milioni la Juve non vuole spingersi oltre i 20 pensa che siano fin troppi per Alvaro Morata ma non lo vogliono perdere quindi che cosa stanno pensando di fare stanno pensando di riscattare Moise Ken e con una situazione abbastanza intricata che non sto qui a spiegarvi perché è veramente impicciosa ve dico la sostanza vorrebbero riscattare Ken e proporlo come pedina di scambio all'Atletico Madrid quindi continuare a puntare su Morata che nel progetto futuro di Allegri anche dirottato sulla sinistra fase di sacrificio insomma ha dimostrato che ci sa fare e rinunciare a Moise Ken seppur ovviamente riscattandolo interessante interessante non me l'aspettavo una scelta così da parte della Juve io ormai ero convinto che Morata sarebbe tornato all'Atletico Madrid e che la Juventus ci avesse definitivamente rinunciato invece questa è un'ipotesi da prendere in considerazione potrebbe accadere quindi monitorerò per voi la situazione ragazzi e staremo a vedere quel che accadrà parliamo rapidamente anche di Roma perché ragazzi la Roma ha praticamente bloccato Solbaken e Selic che cosa significa li ha bloccati perché qualcuno potrebbe dire ok acquistati nostri no per il momento l'accordo sia con Solbaken sia con Selic con Selic si dice che in realtà dovrebbe arrivare questo è quello che sta trapelando quindi dovrebbe essere quasi arrivata anche l'intesa con la sua attuale squadra di appartenenza in Lille per prendere questo calciatore non si parla di cifre elevatissime su Solbaken diciamo che dipenderà da quello che la Roma è stata la Juventus mi sono sbagliato che stavamo a parlare prima di Juve che la Roma andrà a cedere lì davanti come pedine che tipo di ricambio ci sarà e in base a quello se se ne muovono troppi sì in quel caso Solbaken è già bloccato c'è l'accordo con il Bodo manca no c'è l'accordo col giocatore manca qualcosa ancora con il Bodo che lo vorrebbe trattenere perché ovviamente è un giocatore insomma una situazione molto molto intricata ma ce l'hanno in pugno mettiamola così poi non so se andrà alla Roma ripeto dipenderà dai movimenti di mercato che ci saranno raga non appena arriveranno 4.000 mi piace preparate perché vi pubblico immediatamente un nuovo episodio confido in voi e ve ne porto un altro ciao raga